buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti l'ora solare l'ora solare della nostra tv 2000 che scatta con una serie di storie ma con una storia che porta in sé la forza la grinta la capacità di essere attrice giornalista scrittrice perché cito testualmente quando ti domandano ma perché non scrivi un libro e uno dice ma la mia storia potrà interessare a qualcuno se può interessare ma oltre e ben oltre il libro con una storia che parlando del presente ha il profumo del futuro antonella ferrari buongiorno buongiorno ciao baci baci noi buongiorno già salutate ambasciatrice e qui viene la la storia qui viene la storia ambasciatrice della associazione italiana sclerosi multipla perché antonella ferrari lo dice lo sottolinea lo fa notare con la sua meravigliosa stampella creata da lei c'è una creazione poi chiederò la regia di riprendere questa piccola opera d'arte sì io ho la sclerosi multipla e si vive si riesce a recitare si riesce a essere persone belle speciali come te si deve si deve riuscire perché avere una malattia non significa fine della vita significa solo cambiare la traiettoria che si aveva in mente io ho studiato tanto per fare l'attrice non mi sono alzata un mattino improvvisandomi e mi dispiaceva buttare via tutto il mio bagaglio culturale per una diagnosi e ho deciso di continuare a lottare per far vedere che per saper recitare non devi saper correre donna di ferro infatti si chiama più forti del destino il suo libro più forte del destino tra camice paillette la mia lotta alla sclerosi multipla andiamo con calma però è con ordine innanzitutto una bambina una ragazzina nata con il sogno della danza no perché sempre da lì che le bambine quelle belle partono sempre da questa da quest'idea no dalla dalla sua vita della bellezza della danza è iniziata così è iniziato così io sognavo di fare la ballerina avevo una un gran desiderio di ballare di calcare un palco scenico non per la voglia di notorietà ma proprio per comunicare attraverso la danza i miei genitori non erano molto dell'idea ho lottato parecchio per diventare una ballerina poi però il disegno del signore ha spostato il mio modo di comunicare dalle gambe alla parola ora quando è arrivato questo questo spostamento perché quella quella è il momento in cui si prende un'altra strada ed è il momento più difficile è il momento più importante e più difficile perché difficoltà c'è inutile negarlo assolutamente non credo in quelli che vanno in tv dicendo che la malattia un'opportunità che si vive benissimo che non è vero c'è la malattia non è quantomeno l'hai visto così vivere certo si può convivere con una malattia comunque serenamente trovare il modo di reagire però non si può dire che una malattia è un'opportunità io non lo credo eppure questa opportunità anche se possiamo variare il termine a un certo punto per te è scattata perché sicuramente se non ci fosse stata questa malattia nessuno avrebbe potuto fermarti è arrivata questa malattia e nessuno ha potuto fermarti quindi no è una sorta di è una sorta di 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 raddoppio è una forse una sfida è una sfida ti dico la verità quando io appunto il laddio alla danza quando ho dovuto appendere le scarpette al chiodo è stato all'età di 23 anni ma in realtà io i primi sintomi di sclerosi multiple li ho avuti all'età di 11 anni e la diagnosi a 29 anni quindi ho passato vent'anni in un limbo dolorosissimo fatto di ricoveri lunghissimi di esami dolorosissimi sentendomi dire che ho stressata questo stress in realtà si chiamava sclerosi multiple all'epoca era difficile della diagnosi ho incontrato come dico a teatro medici miopi che si sono fermati di fronte invece una dolorosa evidenza e alla fine la diagnosi è arrivata arrivata dopo tempo quando i sintomi erano diventati insomma sempre più invalidanti e lì ho detto vabbè non posso più ballare però studiato tanto recitazione un insegnante mi disse antonella hai talento non abbandonare il tuo sogno vai avanti e io ho deciso di farlo diventare quasi una sfida come hai detto tu perché volevo dimostrare che anche un'attrice con una disabilità poteva comunicare poteva lavorare perché lì è questione io ho lavorato col grande allora pupiavati a cui va il nostro applauso e tutti non sceglie gli attori così non li sceglie mai li sceglie solo se sono se li emoziona certo e lui ha detto tu mi hai conquistato e conquistare me non è semplice e non è semplice e concordo concordo in pieno ecco conquistare questo conquistare poi un ruolo come quello in cento vetrine quindi spaziare in quella capacità recitativa che in sostanza è saper essere un altro e quell'altro vorrei essere io ma tu sai interpretarlo nel modo nel modo giusto tutto questo forte qui lo voglio dire con una punta di anche di critica forse tutto questo altrove sarebbe considerato un punto assolutamente per a favore intendo dire sei la mia rappresentante sei la mia bandiera cioè se ce l'hai fatta tu ce la posso fare all'estero si all'estero è tutto più semplice dove si scontra questo all'estero addirittura ci sono personaggi attori con disabilità che interpretano se stessi nelle sitcom si può anche ridere di disabilità io a teatro racconto proprio la mia vita in modo molto divertente perché non devi per forza piangerti addosso la disabilità è già è già pesante di suo non c'è bisogno di appesantirla con lacrime a comando allora le lacrime ci saranno state ma di gioia di grande gioia perché nel 2009 non ho ancora chiesto niente della famiglia di antonella ferrari ed è suo formidabile papà ma arriva il giorno delle nozze che bel fiore che mio marito è un bel fiore davvero sì 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 è proprio bello è proprio bello siete proprio bene allora cos'è come è stato che com'è che ti ha detto quando io tra il 2009 e 2010 ho avuto una grave ricaduta proprio poco dopo il matrimonio ho avuto una grave ricaduta perché mi hanno dovuto interrompere una terapia che mi faceva molto bene ma che purtroppo dava degli effetti colaterali rischiosi e sono finita in sedia rotelle per un anno e in quel periodo mio marito si stava avvicinando agli incontri con i medici lui non veniva mai con me andavo sempre da sola non volevo coinvolgerlo troppo e invece quel periodo l'ho fatto l'ho reso partecipe della mia vita perché era giusto così e un medico disse se non smettiamo la terapia lei può avere quattro mesi di vita e lui si sentì dire tutto questo e rimase sconvolto e tornando a casa però mi disse mi fece la dichiarazione d'amore secondo me più bella che un uomo può fare al mondo sottolineo mi disse ti ho amata in piedi ti amerò anche da seduta complimenti complimenti roberto e questo è il gruppo di famiglia e questo è il nostro bambino peloso grisù grisù il nostro cagnolino che noi amiamo tanto l'abbiamo preso quando aveva due mesi l'abbiamo cresciuto volevamo tanto un figlio visto che il figlio non è arrivato ci siamo buttati nell'amare tantissimo gli animali e poi i figli che non arrivano possono significare che si possa fare tanto per tanti bambini nel mondo non saranno i tuoi infatti ma si può fare tanto io noi abbiamo quando con la sclerosi multipla diciamolo si può avere figli tranquillamente nel mio caso non sono arrivati per una susseguirsi probabilmente di problematiche perché ho avuto la diagnosi tardiva perché ho fatto terapie debilitanti non lo so dio ha deciso questo e io non mi non mi ci metto nelle decisioni dall'alto però noi volevamo fortemente un bambino e non però non volevamo forzare la natura non potevamo neanche con la mia condizione di salute allora abbiamo deciso di provare ad adottare e lì ci siamo scontrati con un mondo che ci ha veramente fatto male perché abbiamo scoperto che io non posso adottare un bambino perché ho una disabilità perché ho una malattia neurodegenerativa e questo è doloroso perché è vero che bisogna preoccuparsi del bambino in principale modo è assolutamente però chi dice che un bambino avrebbe un trauma con una mamma con la sclerosi multipla un bambino non ha bisogno di una mamma che cammina ma di una mamma che lo sappia abbracciare da mare allora vedete che con Antonella Ferrari i temi che si aprono e il coperchio delle pentole che vengono alzate tanti coperchi per tantissime pentole diverse sapete che facciamo finestre spalancate sta arrivando è un ciclone non avete idea di che cosa stia realizzando a teatro tra poco l'avrete l'ora solare arriviamo tra un attimo Antonella Ferrari più forte del destino tra camice e paillette la mia lotta alla sclerosi multipla questo libro esce nel 2012 edito da Mondadori a te papà che sei stato il mio angelo custode sulla terra e che ora continui a vegliarmi anche da lassù grazie per essere stato la costante più bella della mia vita con immenso amore la tua ciccia ciccia lui mi chiamava ciccia allora questo papà e ho voluto aprire il capitolo famiglia qui lo vediamo credo in uno dei giorni più belli della sua vita dopo la tua nascita è riuscito a portarmi all'altare per un pezzettino è riuscito a realizzare il mio sogno io volevo tutti i consigli lui accanto per un pezzo mi ha portato mio fratello Maurizio e l'ultimo pezzettino ci siamo fatti forza e ce l'abbiamo fatta insieme ora dietro dietro questo papà che i genitori hanno la pessima abitudine di andarsene a un certo punto nessuno li ha autorizzati noi figli non li abbiamo autorizzati e loro prendono queste iniziative così no? e sto dicendo il tutto tra virgolette ovviamente insomma questo papà è stato veramente fino all'ultimo è stato lui la tua forza e tu la sua però lui con mia madre sono sempre stati una grande forza lui poi mi ha insegnato la dignità nel dolore perché anche lui si è ammalato ha fatto gli ultimi 16 anni di vita ammalato tra tumori, ictus ne ha passate di tutti i colori ma con grande dignità non si lamentava mai e mi ha insegnato a vivere la malattia con dignità senza considerarla per forza un inquilino scomodo ma accettandola con fede e devo dire che lui è presente in ogni mia giornata grazie a lui ho imparato a pregare in un modo meno egoistico perché io prima, io non ho mai pregato per me non ho mai chiesto a Dio fammi guarire perché ritengo di aver già avuto un grande miracolo di saper vivere la vita nonostante tutto con grande gioia per cui non posso chiedergli di più però per mio padre ero molto rompiscatole e chiedevo ti prego non portarmelo via lasciamelo qui non mi rendevo conto che stavo chiedendo quello che era giusto per me non era detto che fosse giusto per lui e in un pellegrinaggio a Meggiugori un prete mi disse Antonella tu stai pregando in modo egoistico impara a dire sia fatta la tua volontà io ho imparato in quel pellegrinaggio a Meggiugori e un mese dopo mio padre se n'è andato credo di averlo liberato dal mio egoismo ecco a questo volevo arrivare sì e anche questo vedete fa parte del libro di Antonella Ferrari che poi è diventato uno spettacolo non è di 180 pagine questo è il libro di un'intera vita che si aggiorna quotidianamente e quotidianamente aggiunge pagine ma questo libro invece torniamo alla carta è diventato uno spettacolo e allora intanto si parte il 21 si torna in scena perché è da un po' di anni che giro l'Italia con grande successo devo dire grazie al pubblico sold out ovunque e quindi ho già fatto le tappe diciamo quelle grosse di Milano Roma, Napoli eccetera io leggo primo debutto 2014 in gennaio 2014 sì 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 a Milano e devo dire che continuano a chiedermelo che ci credo guarda là continuano a chiedermi di tornare in scena e adesso dopo un anno di pausa perché ho avuto un po' di problemi di salute quindi mi sono dovuta curare torno in scena dal 21 febbraio al teatro Giuditta Pasta Saronno e poi le altre date le potete vedere anche sul mio sito sul sito www.antonellaferrari.it antonellaferrari.it e andrò vicino a Vicenza andrò vicino a Como andrò alle porte di Milano ancora insomma porto di nuovo in scena la mia vita ma non è uno spettacolo se uno pensa oddio vado a teatro si parla di malattia sarà triste sarà doloroso no, è uno spettacolo pieno di divertimento dove però si riflette anche allora e volevate che l'ora solare non vi facesse vedere un pezzettino di questo spettacolo? eh no lo sapete siamo noi più solari di noi non c'è nessuno finestre spalancate e antonellaferrari guardatela in scena per tutti l'attrice è quella che fa sognare è quella tutta curve e sguardo invitante l'attrice con il tacco 12 beh sì quella con la stampella 112 mi scusi mi tolgo la curiosità lei è quella che fa la zoppa a cento vetri eh? guardi io non faccio la zoppa io sono zoppa voglio dire questo vuol dire essere proprio questo è il tacco 12 stampella 112 è meraviglioso guarda è bellissimo io sono nata in teatro e il contatto con il pubblico è stupendo ogni sera poi c'è la gente che viene a salutarti alla fine dello spettacolo e ti dice delle cose così belle ti rendi conto che questo spettacolo fa bene all'animo non solo delle persone che una malattia la vivono ma anche di chi non la conosce la realtà di una malattia e magari la conosce in quella sera perché sì una parte fa molto ridere il finale dedicato a mio padre quindi magari un po' più commovente ma c'è anche una parte dedicata a questa diagnosi tardiva quindi c'è molta rabbia ci sono si toccano tantissimi registri in questo spettacolo certo Nella a chi fa bene uno spettacolo così soprattutto a quelli che credono di stare bene no? che camminano con le loro gambe che magari hanno tutto e fanno bene a fare questo bagno all'interno della tua storia proprio un tuffo letteralmente un tuffo all'interno della storia di una donna strepitosa come tu sei e non sciupo assolutamente questo aggettivo posso avere un attimo questa? sì allora abbiamo una richiesta da fare se ci sono delle ma anche delle case di moda che vogliano sfilare a termine della sfilata con le modelle con queste stampelle che vogliono aiutarmi a realizzare questo sogno per colorare la disabilità di chi? ci chiamino l'ora solare farà volentieri il collegamento con www.antonellaferrari.it questo volevo dire al volo al volo al volo attenzione opla opla no ecco lo sapevo ma allora questa la dobbiamo fare a teatro ecco vedi Antonella Ferrari guardati ci vorrebbe grazie grazie di cuore grazie 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 a te Antonella Ferrari Antonella Ferrari 15 febbraio 15 febbraio 1898 uno dice tanto tanto tempo fa buon compleanno totò e noi sappiamo di dovergli dire un grazie infinito e avevamo bisogno di Tonino Pinto per questo Tonino Pinto ben arrivato grazie di essere con noi ben trovati il giornalista del cinema il critico cinematografico l'amante del cinema totò totò un personaggio meno male che è nato che bella cosa un personaggio totalmente straordinario che non è ha riempito soltanto di schermo schermo con quasi 100 film ma soprattutto se uno considera che dall'età di 17 anni ha cominciato a costruire la sua carriera con una fatica incredibile mi viene da fare ancora una volta l'applauso a quella bravissima attrice che hai ospitato poco fa lo devo fare perché tanto nella Ferrari ma certo ma certo che sì a proposito delle difficoltà se tu consideri che poi la carriera di Totò che esplosa soprattutto col teatro con quella che allora si chiamava che ancora oggi si chiama rivista la rivista musicale che ha avuto grandi protagonisti da Nino Taranto a Macario da Ugo Tognazzi a tantissimi altri personaggi ma soprattutto Carlo D'Aporto ma soprattutto Totò che in quella rivista musicale ha incontrato per la prima volta un altro grande mito Anna Magnani oh allora non corriamo non corriamo troppo allora Tonino noi stiamo vedendo un uomo che ha ha una vita che da sola dovrebbe essere raccontata in un film perché lui si ritrova con questi titoli nobiliari di cui poi dopo tu ci dirai con questo padre adottivo si ritrova già a nascere in una in un film nel film in un'opera di teatro nell'opera di teatro come arriva Totò? Beh Totò innanzitutto Antonio Antonio De Curtis se detto Totò o il principe della risata grazie ai suoi titoli nobiliari è un tutt'uno nel senso che questo titolo nobiliare lui lo eredita dal padre adottivo che era il marchese di Trattivori la realtà è che con il successo e con i danari lui si costruisce una sua seconda identità e diventa quasi il doppio di se stesso dove finisce Totò e comincia il principe eh questo lo scopriremo più tardi anche con un'intervista che gli fece la grande la grande Oriana Fallaci sentite sapete cosa facciamo adesso poi continuiamo a parlare della vita di Totò ma quando uno parla di Totò Totò lo vuole vedere eh partiamo con Totò e i re di Roma partiamo con Totò e i re di Roma dove? accanto a Totò guardate un po' chi c'è qual è il lago più grande d'Italia signor Cristacabo? è facile lo dice anche il nome non è vero il lago più grande d'Italia non c'è anche il nome ma non c'è che il nome si è finita lago maggiore e me lo immaginavo e me lo immaginavo che ci cascava il lago maggiore non è il lago più grande d'Italia si dice maggiore ma non è maggiore il lago di carta è maggiore di lui e appunto è il lago più grande d'Italia carina non è vero è finitosa mi prende un inconvulso vogliamo fare qualche domandina sulla storia signor Cristacabo? il suo dritto dunque diciamo un po' signor Cristacabo dove è morto Garibaldi? Garibaldi Capri lottativo e di nuovo Totò il re di Roma Steno e Mario Monicelli 1951 allora è stato l'unico film che lui ha interpretato con Alberto Sordi però erano lui riconobbe in Alberto Sordi lui riconobbe in Alberto Sordi questo grande intuito pochi comici hanno possono vantare questo Buster Keaton e Charlie Chaplin e accostare il nome di Buster Keaton e Charlie Chaplin a Totò non è affatto un eufemismo è davvero una grande forma di rispetto e di realtà per i confronti di un artista tutto tondo con l'istinto che aveva Totò della comicità in questo film puoi fare tante cose Totò comincia ad accarezzare anche il sociale e questo povero dico povero nel senso che non aveva istruzione che doveva fare un salto di carriera per il suo lavoro che non dico un alfabeta ma ha soltanto la quinta classe elementare deve prendere una licenza elementare mi pare in questo film e la dice lunga su quello che è il tratto proprio sociale che Totò poi sa esprimere ancora meglio in ladri di biciclette certamente ancora in guardie ladri ma ci arriviamo arriviamo a guardie ladri tra un istante allora il lavoro che Totò fa e se l'avete notato anche in queste poche scene lui faceva ridere bastava vederlo ma quando decideva di avere un volto drammatico Totò sapeva avere anche quello ci riusciva perfettamente pur tuttavia Camillo Mastro 5 1956 già rido è così quando andate in piazza Duomo voi a chi pensate Totò Peppino e la mala femmina scusi e scansati scusi lei è di qua dica è di qua sì sono di qua perché ma c'è pa per un tedesco ah il tedesco tra l'ordetti che era tedesco e allora come si fa e ci parlo io perché tu parli ho avuto un amico prigiorito in Germania non mi interrompere se no perdo il filo dunque scusami se che ha capito dopo ti spiego no io voleva voleva savoir noi voleva savoir l'iteris ya eh ma bisogna che parliate l'italiano perché io non vi capisco parla italiano parla italiano complimenti complimenti parla italiano bravo ma scusate dunque ma dove credevate di essere siamo a Milano punto lo so dunque noi vogliamo sapere per andare dove dobbiamo andare per dove dobbiamo andare è una semplice informazione no vabbè e allora qui c'è ci sono delle risate in studio che o vi facciamo vedere Totò o vi facciamo vedere i nostri ospiti perché questo è il mio pubblico che ridono ride ridiamo tutti stiamo ridendo tutti e ancora oggi tutte le generazioni giovani che guardano i film di Totò in televisione non solo vengono conquistate da questa comicità ma è immortale secondo me e non ha età e allora perché all'epoca non la capirono perché all'epoca Totò non è stato capito dai critici soprattutto perché? perché di solito il critico non è colpa sua il critico vive in un momento di attualità che è il momento per cui se andiamo a vedere gli esordi di Totò su un piano cinematografico in effetti ne fa tanti di film ma buona parte di questi film quindi prima di questo che abbiamo finito di vedere poc'anzi sono film di tutto commercio miliardari perché incassano l'ira di Dio ma insomma sono film di tutto consumo quando comincia invece ad affrontare il tema del sociale anche questo film Totò è la malafemmina loro che arrivano dalla provincia a Milano dove si sa che per andare a Milano le valigie di cartone lo spago i primi che lasciano il sud per andare a trovare il lavoro alla fabbrica pensano a Milano come una città che non hanno mai visto ma come c'è la nebbia c'è la nebbia ma fa tanto freddo arrivano con i cappotti con i colbacchi per cercare poi la famosa scena della lettera anche la lettera alla subretta che si va ad innamorare del nipote che sta facendo l'università e quindi fanno questa e poi anche le gag che sono quasi costruite da due mostri sacri non c'è niente la sceneggiatura non ha nulla a che vedere loro se le inventano sul momento Peppino di Filippo accanto straordinario un sodalizio artistico fra Peppino di Filippo e Totò che fa parte della storia stessa del cinema di quel genere di cinema allora e quindi una rivalutazione una riabilitazione del ruolo di Totò la vera riabilitazione arriva con Pasolini arriva con Pasolini quando un grande produttore come Alfredo Bini molto dimenticato ma che è stato un grande produttore e ha avuto il coraggio di dire sì a Pasolini che voleva la maschera gli piaceva quella maschera che doveva far parte di uccellacci uccellini Totò accetta di farlo non tanto per i soldi era già ricchissimo ed era anche malato cioè Totò comincia ad affrontare una parte della sua vita con una quasi totale cecità e quando arrivava sul set rimanevano le maestranze colpite con la bocca aperta perché lui conosceva i tempi e quando sentiva il ciac diceva si riaccende la luce perché aveva questo tipo di sensibilità quel film comincia a far rivalutare Totò come Totò guardie e ladri con Aldo Fabrizi immenso arriviamo arriviamo a guardie e ladri ma prima prima cantina scantinato e dali che rido scusatemi perdonate il regista è Camillo Mastro 5 è il 1956 e per fortuna di tutti noi si gira la banda degli onesti guardiamo rullo 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 con Antonio è quasi rullo ma no il rullo il rullo una specie di mattarello eccolo qua si impasta tutto qua si si per carità ecco basta ecco 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 dati dati oh ci siamo ci siamo va a parte subito ecco 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 smagate portate sembra messa è una volta per comodità filagrana la filagrana è il momento di scherzare scusatemi è l'emozione è la contentezza ecco qua piano piano i portieri su ehi ragazzi voi siete d'accordo siete siete siamo siamo ah siete d'accordo siamo d'accordo le pinze le pinze pinze ecco 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 è un miracolo è un miracolo ecco l'anima di mia moglie perdonami alla faccia del racioniere cattolica va bene va bene va bene questo questo è uno dei film tu pensa che quando qualche anno fa avevo scoperto giusto per caso uno dei più grandi falsari del mondo arrestato alla fine degli anni 70 dalle polizie segrete di mezzo mondo perché pare che avesse inventato una macchina capace di andare a raggi solari a cobalto e capace di stampare qualunque moneta del mondo questo uomo esiste ancora oggi ha 93 anni quando ha scoperto la sua storia oggi vive in una bellissima villa sul lago di Iseo e abbiamo fatto un documentario che testimonia la sua vita non di falsario ma di secondo numismatico del mondo ma forse anche di falsario chi lo sa arrivare nel mistero si chiama Alfredo Baratini un italo francese e gli ho detto che avrei montato questo pezzo per il Tg1 e lui mi disse mettici all'inizio il film con Pippino di Filippo quando loro lo stampano e ci misi proprio a questa scena anche qui però la grande capacità della sceneggiatura e anche soprattutto di quello che loro avevano fatto della sceneggiatura questi due mostri sagri voglio ricordare anche Giacomo Furia in questa scena eccellente attore eccellente attore cosa fanno non sono dei cattivi per la fine lui col figlio che fa il finanziere addirittura ma non li spenderanno mai questi soldi non so li bruceranno e brucerà anche lo stipendio vero lui la fine allora guardate questa scena allora questo l'abbiamo voluta solo come fotografia perché guardi e ladri Tonino Pinto è dall'inizio alla fine quel finale in cui ci si commuove bellissimo quando Totò alla guardia Aldo Fabrizi dice mi segua lui lo sta arrestando ma lui gli dice mi segua è una fotografia dell'Italia di allora ho detto bene brava no di quello che vivevamo forse anche di un modo di rapportarsi a quei furti quei furtarelli in maniera onesta e la critica lì incominciò ad osannare Totò insieme con Aldo Fabrizi naturalmente però cominciarono a capire che Totò era ancora tutto da scoprire e se non avesse avuto una morte improvvisa per il cedimento del cuore per l'infarto e soprattutto per il suo problema agli occhi chissà forse noi avremmo avuto un attore immenso che ancora oggi ci avrebbe regalato chissà che cosa c'è un finale che vogliamo dare vogliamo regalarvi nelle parole di Tonino Pinto la voce è quella di Tonino Pinto ma scrive Oriana Fallaci che intervista il principe dei Curtis va a concludere poi tutta quanta la favola mista alla realtà fra due modi di essere di Totò lui viveva io sono stato una sera a casa sua a cena in Viale Parioli quando viveva già con Franca Faldini e quindi ho avuto occasione di conoscere il Totò che non era quello del set cinematografico cioè il principe e viveva da principe lo vediamo in questa foto Oriana Fallaci andò per intervistarlo finalmente ebbe questa intervista che doveva essere centrata proprio sul fatto che lui era un nobile e quindi voleva sapere poi alla fine lui fosse un po' anche un po' seccato dice signorina Bella leggo perché vai vai perché disse signorina Bella sono altezza imperiale sono principe e anche molte altre cose conte Palatino cavaliere del Sacro Romano Impero ufficiale della Corona d'Italia cavaliere di Gran Croce dell'Ordine di Sant'Agata e San Marino Marchesi di Ter Viteri ma questo lo uso poco come detto ma questo lo uso poco Totò Totò e lei che era convinta di incontrare il principe invece si scontrò con Totò grazie a Tonino Pinto grazie a voi e buon compleanno principe della risata ovunque sia grazie di esserci stato perché questo è importante quando si parla di Totò ci fermiamo solo un attimo no io volo avanza voir ci vediamo tra un attimo l'ora solare brava 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 ed è tornato Don Francesco Cristofaro ben arrivato grazie ben trovati ben arrivato caro parroco di Santa Maria Assunta a Simi di Cricchi in provincia di Catanzare salutiamo ovviamente anche tutta la tua parrocchia Don Francesco e nostra guida perché Don Francesco ci guida letteralmente ci prende per mano in questo lungo racconto dei sacramenti la scoperta dei sacramenti abbiamo approfondito grazie a Don Francesco il battesimo l'eucaristia la cresima e oggi riflettiamo sul sacramento dell'unzione degli infermi che fa parte insieme al sacramento della penitenza o confessione dei sacramenti della guarigione allora fin qui ho parlato io e poi da adesso in poi imparo proprio così fa parte dei sacramenti della guarigione e il significato è contenuto proprio nelle parole stesse sacramento in quanto è sempre un rito sacro unzione perché segno e simbolo di questo sacramento è l'olio degli infermi che viene benedetto il giovedì santo dai vescovi durante la santa messa crismale che è la messa che il vescovo celebra con tutti i sacerdoti della sua diocesi insieme poi all'olio del crisma e dei catecumeni infermi perché destinatari di questo sacramento sono proprio i malati e viene dato quando c'è una malattia in modo particolare grave quando c'è l'anzianità che avanza quindi il concludersi del ciclo terreno della vita viene dato o dovrebbe essere dato prima di un intervento chirurgico molto serio importante e questo sacramento è fondamentale perché aiuta la persona a vivere serenamente la sofferenza e la malattia ed è una consolazione per l'anima e per lo spirito Don Francesco la si chiama a volte più comunemente estrema unzione no? Mentre in questa unzione noi dobbiamo considerare ecco in questo in questo olio che torna ancora una volta sulla nostra fronte ecco lì dobbiamo pensare a un collegamento perfetto che racchiude un po' tutta la nostra vita di credenti Hai detto bene c'è un ciclo della vita che volge al termine e viene comunemente detta estrema unzione proprio perché si ha l'abitudine dico purtroppo tra virgolette di chiamare il sacerdote quando mancano proprio pochissimi istanti prima di lasciare la vita terrena ma non è così perché San Giacomo nella sua lettera ci dice chi è nel dolore preghi chi è nella gioia salmeggi chi è malato chi ami a sé il presbitero e che preghi su di lui e che lo unga con l'olio e non è necessario gli ultimi istanti della vita la malattia perché questo sacramento è consolazione e si può si può anche guarire perché alla base di ogni sacramento ci vuole la fede questo è importante se non c'è la fede il sacramento non ha neanche lo stesso valore e effetto insomma la base rimane sempre quella c'è un'origine di questo di questo sacramento allora noi sappiamo che Gesù nei Vangeli se leggiamo il Vangelo ha sempre a cuore la malattia e l'ha malato in modo particolare fa tanti miracoli a persone ammalate e la stessa missione viene ereditata dagli apostoli Marco nel capitolo 6 ci ricorda che gli discepoli partirono per predicare il Vangelo e cacciarono diversi demoni e guarirono diversi ammalati ungendoli con l'olio e Gesù stesso noi sappiamo leggendo il Vangelo di Matteo che si identifica proprio con il malato ero ammalato e mi hai visitato perché è importante perché nella malattia si sperimenta la fragilità umana e quindi avere una persona vicina e soprattutto avere il conforto della fede è fondamentale io dico sempre lo vorrei ricordare a tutti i miei confratelli sacerdoti con molto rispetto e delicatezza che questo è un sacramento davvero dove si manifesta tutta la delicatezza sacerdotale perché è vero che tu vai al letto del malato ma attorno al letto del malato ci sono anche i familiari la morte è traumatica per tutti e in quel momento la presenza silenziosa del sacerdote vale molto più di tante catechesi di tante parole e di tanti gesti questa immagine che noi abbiamo scelto è un po' è un po' la somma di tutto no? perché perché è vero perché c'è c'è poi tutto ciò che ricade sulle persone che amano quel malato e che se ne dovranno separare e quindi tutto questo fa parte di un aiuto di un sostegno di una benedizione se la possiamo definire così io sono parroco e sacerdote da quasi 13 anni e mi è capitato diverse volte di essere chiamato e ricordo tra tutte una chiamata alle 3 di notte perché il telefono del sacerdote non può essere mai spento alle 3 di notte vengo chiamato dalla mia sacristana stava morendo il suo papà quindi c'è tutto questo legame con una persona che ti considerava già un figlio la sacristana che considera il sacerdote come qualcuno di famiglia veder morire il suo papà ed è stato per me è stato un momento delicato perché c'è bisogno della presenza e anche forse di una quota non dico in più perché un sacerdote è sempre completo quando è un sacerdote e quindi come tale quando porta avanti la parola di Dio però forse quello è l'istante in cui ci vuole bisogna ricordarsi di essere figli bisogna ricordarsi di quando abbiamo perso qualcuno che abbiamo tanto amato c'è una punta in più è vero è verissimo questo che dici perché tu ti immedesimi in queste scene soprattutto in quelle persone che tu hai accanto cioè alla fine quelle persone ti appartengono e quindi di conseguenza loro stanno perdendo un caro ma tu che li consideri cari al tuo cuore stai perdendo anche tu con loro una persona cara no Francesco grazie allora l'unzione degli infermi porta conforto agli ammalati e ai cari che lo assistono ed è un sacramento cito testualmente che fonda le sue radici nella coralità della comunità cristiana argomento di cui stavamo parlando proprio un istante fa ascoltiamo le parole di Papa Francesco Papa Francesco ne ha parlato tra le altre volte durante un'udienza generale siamo in piazza San Pietro e il 26 febbraio del 2014 vediamo Gesù che arriva per sollevarlo per darle forza per darle speranza per aiutarlo anche per perdonare i peccati e questo è bellissimo non pensare che questo è un tabù perché sempre è bello sapere che nel momento del dolore e della malattia noi non siamo soli il sacerdote e coloro il sacerdote e coloro che sono presenti durante l'unzione degli infermi rappresentano infatti tutta la comunità cristiana che come un unico corpo con Gesù si stringe attorno a chi soffre e ai familiari alimentandolo in essi la fede e la speranza sostenendoli con la preghiera e il calore fraterno ma il conforto più grande deriva dal fatto che a rendersi presente nel sacramento è lo stesso Signore Gesù che ci prende per mano ci carezza come faceva con i malati lui e ci ricorda che ormai gli apparteniamo a che nulla neppure il male e la morte potrà mai separarti e questo è il nostro Papa Papa Francesco Don Francesco Cristofaro chi amministra questo sacramento? ho citato poc'anzi San Giacomo chi è malato chiama a sé il presbitero della chiesa e il ministro ordinario di questo sacramento è il sacerdote o il vescovo tu ci spiegavi che si può ricevere più volte cioè può accadere di ricevere più volte questo sacramento esatto può accadere questo perché mentre uno vive una malattia può essere che da quella malattia si guarisca può succedere che si ritorni nella malattia per altri motivi per altre situazioni quindi si può ricevere una seconda volta e anche una terza e il rito con cui si amministra è la formula che viene pronunciata allora la formula lo diceva anche Papa Francesco è sempre una formula comunitaria sia che si è in chiesa sia che si è in ospedale o al capezzale in casa dell'ammalato è sempre comunitario perché è sempre la comunità che celebra il sacramento e le parole sono meravigliose che vorrei ricordarle per questa santa unzione per la sua papissima misericordia ti aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo ti sollevi e ti conceda pace sono parole veramente meravigliose e io vorrei approfittare di questo spazio perché so che sicuramente a casa ci seguono persone che vivono situazioni di malattia e anche situazioni di malattia davvero serie vorrei dire di non disperare di non lasciarsi prendere dallo sconforto e dallo scoraggiamento sicuramente è un momento di sofferenza è un momento di tristezza ma non si è soli questo è importante dirlo non si è soli c'è la famiglia ci sono i cari ci sono persone che ci vogliono bene ma c'è sicuramente la presenza di Dio Padre di Dio Figlio di Dio Spirito Santo della Vergine Santissima siamo comunità siamo famiglia grazie Don Francesco perché io sono sicura che in questo momento noi qui che siamo identici a voi lì nel senso ovunque ci stiate seguendo lo dico sempre ovunque ovunque arrivi la nostra TV 2000 ci sia assolutamente bisogno di queste parole perché a volte non dimentichiamo a volte i malati non hanno intorno una famiglia a volte ci sono malati soli negli ospedali o nelle case o che si sentono soli perché magari hanno anche provano questa sensazione indipendentemente dal fatto che possa più o meno essere vero allora sapere che c'è questa rete di preghiera intorno è importante Don Francesco qualche altro secondo una volta chiesi a una persona cosa ti piace di più dell'altro e viveva una situazione particolare di sofferenza mi ha risposto non che sia bello non che sia alto non che sia ricco ma che c'è e io posso contare sulla sua presenza ecco io questo vorrei dire alle tante persone che ci seguono da casa ci siamo per fortuna c'è Don Francesco Cristofano per noi come sacerdote e permettilo Don Francesco come portavoce di questo ci siamo una domanda che ho promesso di fare perché me l'ha posta una persona anziana cara che mi ha detto ma ma chi muore in una guerra ma chi non ha avuto il tempo di ottenere quella di avere quell'unzione che cosa fa e questa persona è una persona molto anziana e così vorrei una risposta c'è sempre prima di ogni cosa il desiderio quando si desidera il cielo il cielo risponde ti viene a prendere quindi si muore con Dio e si va da Dio perché il desiderio è questo quello di abbracciare il Signore e il Signore dinanzi ad un'anima bella che desidera stare con Lui che fa la lascia sola no l'abbraccia con il suo amore e la sua misericordia Don Francesco Cristofaro grazie grazie e ancora grazie allora noi siamo sempre contenti quando ci viene a trovare e crediamo sapete anche con queste con queste pagine che sono pagine importanti per tutti noi per tutti noi credenti ma con queste pagine di riuscire ad arrivare forse un pochino di più accanto a chi in questo momento aveva bisogno esattamente di queste parole grazie di essere stato con noi allora grazie grazie a Don Francesco Cristofaro io ricordo tra poco la recita della coroncina la divina misericordia e immediatamente dopo questo è un momento di assoluto caos qui nello studio è una bellezza li facciamo impazzire i nostri cameramen i nostri tecnici la nostra regia grazie a loro perché senza di loro noi non saremo qui a raccontarvi nell'ora solare né nient'altro ci vediamo alle 15.20 con siamo noi e domani finestre spalancate l'ora solare ritorna vi aspettiamo alle ore 14 grazie Don Francesco grazie 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 con il cuore grazie